Good morning guys! Benvenuti in questo primo video Q&A. Per chi non sapesse di che cosa si tratta, vado praticamente a rispondere alle domande che mi vengono poste su YouTube, Facebook, Instagram e Telegram. Ebbene sì ragazzi, sempre sotto Noise883 mi trovate su YouTube, Facebook, Instagram e Telegram. Per questo primo Q&A ho deciso di inaugurare la mia lavagna. Non è questa la rubrica per cui l'ho comprata, quindi rimanete sempre ben aggiornati sui video che usciranno ragazzi. Come dice Yachidale, benessere. La devo montare. Lo faccio al volo e iniziamo. Lavagna montata. Per iniziare mancano i miei anelli ragazzi, era da tanto che non li mettevo. Perché quando guido con i guanti invernali troppo spessi, loro mi danno fastidio e finalmente riesco a rimetterli. Pronti con le domande? Piero Mazzo da YouTube. Ehi, bel video, ma cosa usi per le riprese dall'alto? Un drone? Se parli delle riprese in movimento, utilizzo una telecamerina a 360 gradi che è la Insta360 One X. Se però parli delle riprese dall'alto statiche quando sono fermo da un mese a questa parte, le faccio con il mio Mavic Mini. Damiano Puccio YouTube. Cristo Santo, ma perché vloggi come un quattordicenne arrapato? Perché io sono un 36enne eternamente bambino. E non mi piace pormi dei filtri mentre faccio i video. Voglio trasmettere proprio come io sono. E io, mentre vado in moto, sono in quel modo. E io sono così. Marco Telegram. Carburatore o iniezione? Mi hai fatto una domanda alquanto scomoda. Se prendiamo l'aspetto purista, cioè l'essenza di un Harley, allora ti dico carburatore. Senza nemmeno pensarci da quel sound e quel fascino che sono ineguagliabili. Se però parliamo di tecnologia e di linearità in fatto di erogazione e di meno problemi, allora ti dico iniezione. Allora dico una cosa sicuramente che mi va a contraddire. Se io dico che l'iniezione è un passo tecnologico secondo me buono e che è ottimo utilizzare, mi do la zappa sui piedi perché la tecnologia dell'elettrico io non la concepisco. Però anche quello è un passo avanti. Ma quello è un altro discorso. Daniele Telegram. Porterai dei test ride di Harley o di altre moto sul canale? Eh sì, porterò altri test ride sul canale. Però come è ovvio aspettarsi da questo periodo storico, tutto quanto è fermo in questo momento. Vi dico già che ho dei contatti e delle collaborazioni in atto per quanto riguarda i test ride. E preparatevi che ne arriveranno delle belle. Dom su Telegram. Per te la moto è solo un hobby o è un qualcosa che non reputi semplicemente un oggetto? Per me la moto non è mai stata un hobby seppur io non l'avessi. L'ho sempre pensata come uno stile di vita, un modo di intendere la quotidianità. È come un camperista. Per lui il camper è veramente una seconda casa. Per me Noise è la mia seconda casa. Bicilindrico da Telegram. Come hai conosciuto Noise? In quel periodo stavo cercando un Ducati Monster a carburatori. E stavo inondando di messaggi mio padre così per renderlo partecipe. E un giorno parlando con lui gli dissi Se non dovessi guidare Ducati l'unica moto che io concepirei è la 883 Iron. Dovete sapere che all'interno della mia famiglia mio zio è venuto a mancare in seguito a un incidente in moto. In sella una Ducati 9 e 16. E quindi il marchio Ducati in famiglia suscita non pochi pensieri negativi. I miei genitori si sono detti ti regaliamo noi la motocicletta, l'Harley, perché è una moto che va piano. Questo è il loro pensiero. Devo essere sincero ragazzi. Il giorno in cui stavo andando a prendere Noise io non la volevo perché io volevo Ducati. Io volevo la moto di mio zio. Nel momento in cui Matteo della concessionaria è salito con Noise il mio cervello ha fatto off. E da lì mi sono completamente innamorato. Lone Biker 883 Instagram Visto che tu hai la 883 da più tempo di me hai mai fatto lunghi viaggi? Se sì, come ti sei trovato? Purtroppo in questi due anni e mezzo, quasi tre, ho fatto solo un lungo viaggio di circa 3600 km in sette giorni con la mia ragazza. È stato un viaggio molto stancante. Ma per rispondere alla tua domanda mi sono trovato benissimo. O meglio, io che guidavo mi sono trovato bene. La mia ragazza dietro ha sofferto veramente, ma veramente tanto. E ti dico anche un'altra cosa, cosa che leggo tantissimo in giro in internet nel modo più generale. Si dice che la 883 è una moto che arriva a un certo punto e dopodiché non ce la fa. Non è assolutamente vero. È un trattore, è una moto che va senza nessunissimo problema. Con me da solo ha fatto tratte da 1200 km in un giorno. Mi stanco io, lei non si stanca. Parliamo comunque di una moto da 260 kg con 56 cavalli. Però per le capacità che ha ragazzi, lei va avanti e non sente assolutamente la fatica. Pierluigi Celentano da Instagram. Tralasciando la legalità degli ultimi scarichi che hai montato, consigli la remappatura della centralina? Hai qualche consiglio a riguardo? Hai detto bene. Tralasciando la legalità. Ovviamente sono scarichi fuori qualsiasi norma. Ma l'80% degli scarichi che vengono montati su Harley sono fuori norma. Messo da parte questo concetto, ogni volta che tu vai a portare una modifica o una miglioria funzionale al motore, tu effettua una rimappatura. Nico3075 da Instagram. Di dove sei? Io sono Umbro di Gubbio e da 4 anni vivo qua vicino a Firenze a Barberone nel Mugello. Per capirci a circa 15 km dal circuito del Mugello. Codice tiscale. Semne BGG da Instagram. Dato che sei stato al Faker, volevo chiederti quanti giorni secondo te è bello starci? Tutti e sei? Sono troppi? L'anno scorso ci sono stato due giorni e una notte ovviamente. Nonostante fossi preso nel fare le riprese, con tranquillità l'ho vista per intero. Se vogliamo parlare degli eventi, quindi di giorno e di notte, ogni giorno c'è qualcosa di diverso. Quindi sicuramente se non ci stai tutti i sei giorni qualcosa ti perdi. Se chiedessero a me di andarci sei giorni, direi di sì, ma non perché starei sei giorni interi al Faker. Durante i primi giorni, fino al venerdì, io mi vado a fare i passi di montagna da quelle parti. E la sera me ne torno e vado a godere la musica degli eventi là. Lodovico Callamandrei da Instagram. Ho trovato un'auto 8.3 usata con 40.000 km. Dato che faccio circa 15 km all'anno, secondo te ne vale la pena? Che durata pensi possa avere questo motore senza avere problemi? Parti dal presupposto che questo è un motore che se tu lo tagliandi e lo mantieni bene come andrebbe fatto, te lo porti avanti non per 50-60, ma per 100 e anche 200.000 km. Il 90% degli arleisti sono fanatici, come me. E quindi la nostra moto viene tenuta come un gioiellino. La compro solo se mi conviene a livello di prezzo, perché a livello di motore non avrai nessunissima preoccupazione. Pino Tino da YouTube. Perché Arley? Perché il mondo Arley non è solo una moto. Quando ti siedi su un Arley, tu non sei una persona. Tu diventi una parte integrante di quella moto. E questo lo dicono tutte quelle persone che hanno un Arley e che dicono che l'Arley li ha completamente rapiti. E il barbaz77 da YouTube. Mai fatto a pugni per fare il test ride? Avevi un occhio gonfio? Alla fine della risposta ti faccio vedere una fotografia. Quel video è stato girato alle 4 e media 5 del pomeriggio e poco prima di pranzo un'ape mi punse vicino all'occhio. Ora non mi ricordo più quale fosse l'occhio. E il modo in cui tu mi hai visto è come io stavo iniziando a diventare. Perché la foto che ti metto ora è come io sono diventato. The Luke from YouTube. Che scarico posso mettere per evitare una multa? Risposta semplicissima. Uno scarico omologato. L'80% degli scarichi non sono omologati quindi ti becchia a prescindere una multa. Salvo Siculo da YouTube. Ottime sospensioni? Recensione pari al nulla cosmico. Ragazzino impara a guidare prima. Grazie Salvo. Mi hai dato l'occasione per dare una spiegazione su come io faccio i test ride. Però prima rispondo a te affermazioni sostenendo che venendo da una Sporty abbastanza rigida e salendo su quella che era la Street Glide con le sue sospensioni originali io personalmente mi sono trovato molto comodo. Come avete visto nei test ride effettuati finora e come vedrete in tutti quelli che arriveranno i dati tecnici che io fornisco non sono tanti. Sono proprio quelli basilari. Perché fondamentalmente a me preme dare un feedback su quella che è la sensazione di guida che trasmette quella moto. Le nostre moto sono più moto da sensazioni, da esperienze, da feeling. Sandro Bojerti da YouTube. Ma sei così anche nella vita di tutti i giorni? Sì, sono così anche nella vita. Io sono un giocherellone. Sono un ragazzo a cui piace ridere, a cui piace scherzare, a cui piace divertirsi. Perché se io non sorrido per me la giornata è sprecata. Se io non mi diverto la giornata è sprecata. È ovvio che io sono anche serio nell'arco della mia giornata, nell'arco della mia vita. Però nella maggior parte del tempo io sono così come mi vedete. Jamal da Telegram. Quale delle tante emozioni che ti sussulta Noise è in assoluto la più forte? Me ne scatena un'infinità. Ma la principale è off al cervello. Se ho un problema, ho un pensiero, ho un dispiacere, io salgo su Noise e il problema rimane lì dove sono partito. Perché è una scarica di endorfine nel cervello talmente forte che sto bene nonostante tutto. Vi ringrazio di essere rimasti con me ragazzi e spero di non avervi annoiato. Vi ricordo di seguirmi su Telegram gruppo Noise883, Instagram Noise883, Facebook Noise883. Iscrivetevi e cliccate sulla campanina per rimanere sempre aggiornati. Ciao ragazzi!